Giorno per giorno, in silenzio, con un sorriso, costruisco festevole il paradiso in terra. Non sono in guerra, evito di straparlare. Voglio fare bene solo ciò che mi appartiene. Credere nella mia verità, questa è l'opportunità. Voglio rinunciare a tutto ciò che non mi va. Starò distante dal malaffare quotidiano, da questa sottospecie d'essere umano che inquina e sfigura continuamente il mondo. Non mi confonderò e non mi lascerò ingannare. L'ombra scura non mi piace, cerco la luce. Non entro nel perverso meccanismo che induce alla distruzione. Io, la rivoluzione, la faccio dentro me. E il cambiamento c'è. È una verità che vivo dentro, con soddisfazione. L'emozione che provo è vittoria esaltante. Storia nuova, a cui appartengo corpo e mente. Ma la realtà, purtroppo, non esclude l'incidente. Ogni scontro costa il tempo della riparazione. Ogni resurrezione dipende sempre dalle tremanti mani della sorte. Il tempo porta con sé comunque anche un'estrema soluzione. L'assoluzione ad ogni peccato. Persino l'inaccettabile umana morte. L'inaccettabile umana morte.